Buonasera signore e signori sono ASC88, benvenuti con un altro turno, il terzo, diciamo turno così, la seconda nostra partita con l'Inter su manager di calcio Andiamo a vedere, abbiamo disputato appunto un'altra partita, 4-1 contro l'Udinese, abbiamo sconfitto Golia 2008, 4-1 Attenzione perché questa internazionale arriva al quinto posto, l'abbiamo presa, attenzione mi stava per distruggere la tastiera Allora abbiamo preso l'Inter che era settimo posto, siamo arrivati al quinto, quindi grande prestazione, andiamo a vedere un po' appunto il nostro risultato Allora Alvaro Pereira, poi ha segnato basta, l'Udinese, Alvaro Pereira, Mudingai, Mudingai, qui la pubblicità come al solito Perfetto, al 91esimo, arbitro Luca Banti, nessun fortunato, cartellino giallo-rosso, 40% precisione contro il 20 loro Vediamo un po', possesso palla, 59-41 vuol dire che veramente siamo troppo hyper power Alvaro Pereira, migliore uomo in campo con Mudingai perché ha segnato chiaramente Mudingai la doppietta e Alvaro Pereira appunto la sua Poi si, Cassano 6 Purtroppo l'attacco è un po' così, cioè è quasi normale che gli attaccanti segnino pochi, non il 4-5-1, però secondo me è meglio Allora andiamo a fare, Cassano verrà sostituito, mettiamo Palasio, Rodrigo, faccio alterno Allora, Xavi Martinez mettiamo al posto, mettiamo, 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 obi Poi Guarin, mettiamo Ricky Alvarez, aspetta, dobbiamo fare così perché se no Poi Mudingai, dovremmo sostituire anche Mudingai Vediamo un po', Mudingai Allora, andiamo nella rosa così almeno c'è più giocatori Riesco a cosa aprono meglio Vediamo un po', Akami Martino, Ricky Alvarez, Stankovic, direi Guarin, Benassi, sì Allora, vediamo un po', formazione Allora, andiamo un po', Mudingai Mudingai lo possiamo lasciare Gargano anche, ha fatto una sola partita Cambiato, sono fatte due Quindi possiamo mettere Kuzmanovic Così, tranquillo Alvaro Pereira, difensore, mettiamo Nagatomo, quanto? Può stare, Ranocchia può stare Juan può stare Anzi, Juan lo sostituisco, metto Zanetti E poi sostituirò, vediamo un po', Alvaro Pereira Ranocchia Alvaro Pereira, metto Samuel Portiero Andanovic può stare Perfetto, allora, quindi a questo punto andiamo a vedere L'allenamento Un po', allenamento Vediamo un po', Kovacic si è allenato in attacca in difesa Però non aveva preso niente Questo mi rende molto orgoglioso Quindi ce lo rimettiamo E poi a posto, insomma, così va bene E adesso volevo farvi vedere che, appunto Trasferimenti Dovrebbero essere qua Quelli che abbiamo venduto Sì Allora, abbiamo venduto Allora, vediamo un po' se riesco a mettere Il coso Se no ve lo dico direttamente dall'afron Perché ho ancora i cosi Allora, abbiamo venduto Castellazzi Poi abbiamo venduto Eccolo, eccola Castellazzi di Gennaro, giusto? E in Bayer Sì, eccoli qua Questi abbiamo tutti venduti Quelli giocatori che avevamo messo E adesso andiamo a vedere un po' Ehm Chi, appunto Potremmo acquistare Vediamo un po', eh No, ho sbagliato L'issa trasferimenti Vediamo un po' Allora John Terry Grande Però costa 16.000 Anche se Insomma, oddio John Terry Poi abbiamo Domizzi Da Ludinese Migliaccio dalla Fiorentina Ah no, questi sono già stati comprati Perfetto Io sarei anche per John Terry Vediamo un po' 16.000 Non lo so mica se ce l'ho Vediamo un po' Società Finanze Vediamo un po' Sì Ce l'abbiamo Ce l'abbiamo Questi di qua E andiamo a comprare John Terry Sì Assolutamente perché Perché ci può Ci può essere Può essere sempre utile Perché sto andando qua Non lo so L'issa trasferimenti John Terry Difensore 16.000 Sì Via John Terry è nostro Perfetto Appena ho comprato John Terry Questo è John Terry Grande Quindi a questo punto Lo possiamo mettere direttamente In una formazione Vediamo un po' Probabilmente sì Probabilmente sì Lo mettiamo al posto di Ranocchia 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 Non lasciamo a riposo John Terry Ragazzi 32 anni È un fenomeno Veramente un fenomeno Comunque sia Spero che questa parte Vi sia piaciuta La Diciamo terza Anche se qui In realtà Andiamo Di Dicare un messaggio Sei un grandissimo Ti guardo a Youtube Luigi2280 Grazie Grazie Comunque sia La prossima Vediamo un po' Contro che Ce la giochiamo Contro la Lazio Attenzione In trasferta Tra l'altro Quindi sarà una buona partita La Lazio che è dietro Quindi sfida per Il quinto posto Praticamente Perché anche la Lazio Ha 17 punti Se noi vinciamo Il Milan Riesce a perdere Come anche la Roma Insomma Arriveremo a buon punto Però insomma Ancora dobbiamo aspettare Spero che questa parte Vi sia piaciuta Come adesso vi dico Votate, commentate Iscrivetevi Un ciao Ciao ragazzi